Anche quest'anno siamo in piazza, anche se il tempo quest'anno è stato veramente inclemente con noi, però non è la prima volta che questa manifestazione si svolge nel mese di dicembre, quindi è molto probabile che il clima sia inclemente. In tutti i modi l'AIL torna con le stelle di Natale, quest'anno sono accompagnate anche da un braccialetto realizzato da Cruciani, quindi cerchiamo di accontentare il più vasto pubblico possibile. Dei nostri simpatizzanti. In tutti i modi l'AIL che ha dato origine, l'AIL di Reggio Calabria, oggi Reggio Calabria Vibbo, ha dato origine nell'86 a questa manifestazione delle stelle di Natale, che si è diffusa poi in tutta Italia dopo quattro anni e oggi 4.000 piazze d'Italia si colorano del rosso delle stelle di Natale dell'AIL e noi siamo veramente soddisfatti di questo. dalla vendita delle stelle di Natale abbiamo, riceviamo quelli che sono gli introiti che poi garantiscono una continuità alla nostra azione in favore dell'assistenza ai pazienti emopatici. 28 anni di volontariato nell'AIL, cosa ha la spinta a fare questa scelta? Magari qualcuno si trova nella stessa situazione, e quindi me l'ho sentita nel cuore di fare questa opera e quindi sono orgoglioso di farlo.